la giuria del premio ab innovazione 2022 ha assegnato una menzione speciale al progetto popolart revolution di banca popolare di puglia e basilicata avete non solo portato l'arte nelle filiali ma anche fatto parlare le opere con i visitatori è davvero così assolutamente sì il quadro basta avvicinarsi e comincia a parlare l'opera parla di sé del dell'autore di nozioni di storia dell'arte il tutto concentrato in 90 secondi e questa idea nasce grazie alla collaborazione di un'agenzia di comunicazione la cube comunicazione che l'ha ideata e sviluppata e noi l'abbiamo portata in banca in questo percorso itinerante che ha coinvolto al momento tre delle nostre filiali ne coinvolgerà altri due e dove sta avendo davvero dei risultati significativi il pubblico ha apprezzato questa modalità insolita di entrare in contatto con l'arte è piaciuta tantissimo e proprio in questa occasione noi abbiamo fatto uno start up a chieti abbiamo iniziato da chieti e abbiamo cominciato a coinvolgere le scolaresche le scuole hanno cominciato a farci visita abbiamo raggiunto dei numeri molto significativi oltre 2000 studenti oltre 100 scolaresche che ci hanno fatto visita in più abbiamo previsto anche delle aperture straordinarie il sabato e la domenica e quindi tante famiglie tanti adulti quando è nata l'idea di esporre opere d'arte nelle filiali l'idea nasce nel 2018 un'idea del nostro presidente leonardo patroni griffi che ha voluto che l'arte entrasse in banca promuovendo appunto diverse opere di artisti internazionali e locali la finalità era proprio quella di promuovere la cultura e stimolare attenzione curiosità con il visitatore che poteva essere un cliente un fornitore piuttosto che un non cliente o un dipendente stesso e anche questo è stato un lavoro che ha portato a rafforzare la relazione con i nostri stakeholder Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie.